Il bello del cattivo tempo, siamo di nuovo al teatro off-off e siccome incontriamo ancora... Quest'anno siete una persecuzione, cioè parliamone. Appunto, parliamone, guarda, non so più come aprire le interviste con te, quindi guarda... Guarda, allora, io in questo momento sono il capo dell'audio, quindi posso dire quello che voglio. La prima cosa che vorrei dire, non la dico, passo direttamente alla seconda e presento la compagnia. Partendo da Laura Lattuada, che in questo spettacolo fa mia moglie, ma poi c'è anche Leonora De Luca, che come me, balbetta, e anche fa mia figlia. E poi c'è il regista a seguire, che è Matteo Tarasco. Che fa il regista. Che fa proprio il regista e il regista. Da quella parte invece là c'è la nostra aiuto regista, che si chiama Marta, che farà il cadavere in questo spettacolo, e l'ufficio stampa che sta scappando. Benissimo. Volevo mettere in imbarazzo un po' tutti. Abbiamo delle domande particolari che vuoi che faccia, oppure vado così a braccio? E vai a ruota lì da braccio. Perché così c'è il microfono lontano e prende tutto, e intanto scaldo la voce. La prima domanda è perché gridi di Laura Lattuada. Bene, Laura. Perché hai sputato? Ho bella mira però, hai visto? Laura, com'è tornare a lavorare con me dopo cinque anni? Destabilizzare. Cioè ti pagano abbastanza per questa cosa? Io lavoro con Max, questa è la seconda, terza. Fa sempre mio marito però. Ci sarà un motivo? No. Non c'è. Non c'è un motivo. Sì è vero. Sono un po' la sua croce, sono un po' il suo limite. Capito? Oltre di me c'è l'ignoto. Lo dico per te. La prima domanda è che mi fa ridere. Siccome questo non è uno spettacolo comico, no? Non è una commedia. Non è per una commedia, non fa ridere, non è comico. E quindi se ti viene da ridere è un po' un problema. Sì. Non ci sono ruffianaggi, ma su questo interpellerei il regista, guarda, se vuoi raggiungerlo. Sì, oppure se gli passo... Gli passiamo il micro. Così parla seriamente di uno spettacolo in cui noi crediamo fermamente. Lontanissimo dalla bocca, se no poi facciamo gli scoppiettini. Questo spettacolo si intitola Questo amore, è tratto da un romanzo di Roberto Cotroneo. Ora, Roberto Cotroneo si affaccia per la prima volta a teatro. Abbiamo fatto un adattamento del suo romanzo, che forse è uno dei suoi più grandi successi editoriali. E per la prima volta con Cotroneo guardiamo al di là del limite estremo della vita, per andare a comprendere che cosa è l'amore che vince su tutto. È una coppia che si incontra su un piano di realtà differente, non dirò di più per non svelare il seguito della nostra storia. È una storia d'amore come potrebbe essere quella di Romeo e Giulietta, una storia d'amore intrisa di tanti sensi e significati. Ad unire questa coppia disunita su più piani di realtà vi è una giovane figlia, che è Eleonora De Luca, la quale per la prima volta lavora con tutti noi, mentre quei due signori hanno lavorato spesso assieme. E ora ci dirà che cosa significa lavorare con Max Vado. Noi è divertentissimo. Avete sentito l'entusiasmo con cui ha comunicato a tutti noi il suo divertimento. Una domanda, guarda, tu sei una giovane attrice, sei anche brava, io lo so. Si poteva avere di meglio che lavorare con Max Vado, secondo te? Rispondi sinceramente, non ti preoccupare. No, non riesco a immaginare lo spettacolo diversamente da com'è. È fantastico così. È ancora giovane. Di Max Vado potremmo dire sicuramente, senza tema di essere smentiti, che è il miglior attore italiano della sua generazione. E aggiungere, figuratevi gli altri. Purtroppo è vero. È l'assoluta verità. In un panorama disastrato, Max Vado diventa straordinario. E io lo credo fermamente. Ma il cadavere invece? C'è una battuta, una cardine? Non è Weekend col morto, non è Weekend col morto. Per quanto il prossimo spettacolo potrebbe includerla in questo senso. Allora, diamo il lancio. A Laura Latuada. No, 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 Max Vado. Allora, lo spettacolo si intitola Questo amore. È tratto da un libro di Roberto Cotroneo. Sono molto stanco. La drammaturgia è stata rivista ed è stato tutto diretto. Cioè, è tutto, 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 tutto nelle mani di Matteo Tarasco. È con Laura Latuada, Max Vado e l'onorevo di Luca. L'aiuto regia è di Marta Selvaggio, che fa anche il cadavere. Siamo dal 20 al 25 in questo nuovo teatro. Perché Silvano Spada ha avuto quest'idea di aprire un teatro a Roma nuovo. L'off of theater. C'è della follia, per carità, c'è anche dell'enorme stima, ma per aprire un teatro a Roma bisogna essere completamente pazzi. Il teatro ha 130 posti, venite, teneteci compagnia. Lo spettacolo non fa ridere. Non fa ridere. Passiamoci sopra. Ma sì, cioè c'è di peggio nella vita. C'è che piove. Ma c'è parcheggio qua vicino, per esempio. E poi c'è una bella zona di Roma. C'è una bella zona. Hai fatto un giretto, poi andate a cena qua accanto. Senti, ma vorresti lavorare col bello e cattivo tempo? Ti vedo motivato. Guarda, se ci sono delle persone che io, in questo, non dovrei dirlo, ma non sopporto. Quelli che, adesso vi faccio una lista breve. Quelli che devi intervistare che io non sopporto, manda a me. Manda a me, so cosa chiedere. Quelli che hanno occupato il valle, questi imbecilli qua. Manda a me, manda a me, ci penso io. L'aspettiamo intanto all'off-off, poi vediamo. Forza Juve sempre. L'unica cosa che ci lega veramente, forza Juve.